Secondo me comunque può essere consigliato come votogli da un 8 per via del costo non eccessivo lo abbinerei magari a Diego Carlos se non avete un budget particolarmente elevato magari anche Ruben Dias ci può stare assolutamente quindi un giocatore più forte dal punto di vista tattico per lasciare proprio sfogo alla sua possibilità di andare ad anticipare e comunque ha la possibilità di sfruttare a pieno la velocità di questo Ruben Beso. Ha reso sicuramente bene per quello che costa ci sono alternative secondo me decisamente migliori per il difensore centrale di Liga anche il semplice Koundé salendo con il prezzo secondo me è molto migliore rispetto a questo Ruben Beso per cui secondo me qualche punticino in più del voto se li gioca appunto per la concorrenza salendo con il budget.